seduta monotematica del consiglio comunale sull'america scap a fare il punto sullo stato dell'arte è stato lo stesso sindaco evidenziando anzitutto che le tappe della coppa america saranno due la prima imminente a pasqua 2012 e la seconda nel maggio 2013 nella sua relazione dei magistri sta ricordato che la coppa è una grande opportunità soprattutto per turismo e lavoro e sarà vissuto non come un evento di luxo ma aperto quanto più possibile a tutti va bene che si apra un dibattito costruttivo ma quello che è importante che l'america scap non è una comita effimera esporto mare ma soprattutto opere che rimangono in città riqualificazione della villa comunale via caraccio e lungomare molo san vincenzo il rifacimento delle strade il turismo sono fatti concreti e il lavoro perché poi ricordiamoci che la priorità di tutti è che crescano le opportunità di lavoro soprattutto per i più giovani un altro risultato già acquisito dall america scap è stato quello di aver fatto sbloccare anche dei fondi fermi in regione per opere su bagnoli ma bagnoli si lavora ogni giorno anche qui abbiamo ereditato una situazione pesante da parte di chi ci ha preceduto ma abbiamo sbloccato i fondi che consentiranno entro il 2012 di di completare parco dello sport il centro della trattaruga il centro benessere l'auditorium per tutte queste opere complessivamente sono alcuni milioni di euro ma la tappa più significativa sono gli 80 milioni di euro del grande progetto parco urbano che consentirà della realizzazione del parco i 130 ettari poi nel grande progetto sul quale si sta lavorando in questi giorni insieme alla commissione europea alla regione e al governo c'è anche l'archeologia industriale poi sta lavorando molto bene la nuova nuova setto societario i bagnoli futuro grande entusiasmo quindi i bagnoli stiamo lavorando bene sì la coppa ha permesso inoltre di sperimentare un'importante fase di compartecipazione fra gli enti territoriali e va ricordato che non essendo rientrata nei grandi eventi e quindi nella partecipazione del governo si sta facendo tutto con strumenti ordinari alcune delle opere programmate saranno pronte dunque per la prima tappa di pasqua 2012 mentre le altre più significative saranno terminate per la seconda fase per adesso avremo una parte di villa comunale la cassa armonica la casina del boschetto l'inizio di molo san vincenzo via caracciolo il lungo ma il marciapiede l'illuminazione su alcune strade già da subito dopo faremo interventi importanti ancora di più sul porto sul molo san vincenzo il museo dell'emigrazione la riqualificazione dell'intera villa comunale poi mi auguro che arrivino anche ulteriori fondi attraverso le sponsorizzazioni privati nel prossimo anno ci saranno tantissimi eventi internazionali che rafforzeranno ancora di più l'immagine internazionale della città penso al wuf di settembre al congresso dell'aerospazio di ottombre il forum delle culture insomma